Un capolavoro di Spike Lee, con Benson Washington. Io ti porto il sentimento del tuo proprio valore, il valore più alto di un essere umano, la conoscenza di se stessi. In prima visione TV, la fiamma della fede in un uomo della storia, la voglia di giustizia nella storia di un uomo. Voi vi siete seduti, vi siete inchinati, vi siete piegati per 400 anni, credo sia tempo di alzarsi in piedi. Malcom X, la prima parte domani alle 20.45, la seconda sabato alle 20.30, su Rete4.